intelligenza artificiale attivata vi state divertendo introsi vale la pena sapere di quali danni catastrofici sarete responsabili oggi non credete questa struttura non è soltanto l'opera inutile di qualche patetico scienziato questa casa fu costruita da claudis bray da me in persona qui è custodita la salvezza dell'umanità la fonte di giubans resa possibile dal controllo chiarezza magnifico vero un'entità proveniente da una lontana dimensione e la soluzione all'eterno dilemma dell'umanità la mortalità dovesse cadere nelle mani sbagliate l'umanità e l'universo sarebbero condannati per sempre non la impedisce di pensare che voi siate proprio quelle mani sbagliate guardiamo a terra al castigo divino e che possa durare per sempre mamma mia mamma ogni volta c'è anche la 35esima ranna sono primo bello bello bellissimo è rega spettacolo seconda ranno però ma questo è che parla giusto sì la iai che c'è l'attento merda guardiano a terra saperlo prima dove cazzo bisogna andare qua ma poi sta oddio la nave mi ha buttato giù la nave mi ha buttato giù prego un'altra braccia mi è uscito dalla cassa sapato è la quarta morta braccia bravo è uscita un'altra ricognizione ma comunque che vede non ti uscita un'arma ma ci rendiamo punto no rega mi sentite siamo solo mi state solo non cagando che del genere costa super chill chillissimo si dovevi metterla per forza dopo quella fase di merda la fase per placare gli animi dopo le varie impregazioni questo è tipo la navicella di glovis la stazione spaziale stazione spaziale ok finire qua destini è quello che ho fatto trovo veramente tanto bene errore babbo un in meno perro le babbo un finita il chill si ritorna nella bella